Ok, il 8 febbraio sono 10.23, adesso devo aspettare che riparo il silvio, vado a fare la doccia, poi dopo vediamo un po' di best, poi dopo studio un po' se ci riesco, studio un po' pedagogia e dopo mi preparo, e niente, cioè mi preparo direttamente comunque, e ci sentiamo abitati perché vado a fare, se è il libro, la doccia, e dopo ci vediamo qua, se no, a tempo di ci promossi, lo faccio direttamente, lo faccio a giocare, lo faccio a giocare, lo faccio a oggi è il, adesso vi dico, il 9 febbraio, sono nel 10.42, sto appena sognato, sto facendo le mie colazioni, qualità, e niente, dopo oggi faccio un po' di studio, studio un po', poi dopo devo andare a prendere i capelli, dove si stavano, e stilo l'abrazio, e adesso che posso non fare colazione. Quattro un po' ci aggiungiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. come se è, le emozioni, i cosi, io, e a me lo stesso testo, no? Me lo proponi dentro, come lo proponi, scrivono che io si sapevo, parlate con me. Grazie a tutti.